Buongiorno a tutti. Una gallina. Prego. Cosa? Una gallina viva. Vuole una gallina viva? Sì, cari amici, ci dispiace interrompere le vostre apprezzatissime attività gastronomiche, ma abbiamo proprio bisogno di una gallina. Dobbiamo effettuare un esperimento. Devo metterla qui. Un esperimento molto importante. Al quale voi tutti assisterete. Abbiamo il permesso del comandante. E pregina questa regina. Non voglio anticiparvi di che cosa si tratta, perché se riesce sarà una straordinaria sorpresa. Ecco, quella là. È d'accordo, lo scelto? Grazie. Grazie, grazie a tutti. Venite, venite pure. Dobbiamo documentare l'appenimento. Ma cos'è che fanno? La posi di sopra. No, la testa verso di me. Così. Ora domando un po' di silenzio. Così. Così. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Guardate. Ora dorme. Ma è incredibile. Povero pollo. È vero, ha chiuso l'occhio. Oh, a casa. Ecco tu. Sta male. Un dottore. Aspettatelo lontano dal fuoco. Chiamate un dottore. Vincenelo blocco. Prego. Tenete gli piedi più alti della testa. Dei sali. Un po' d'acqua. Non avete dei sali? Un concetto di donna Io ho visto che era molto pallido Dovresti portarlo fuori però Buttaglielo sulla faccia Signore, faccia un bel respiro Bisogna essere abituati a stare qua te Anche Casparone l'altro giorno è finito con la faccia sulla ricotta Sta meglio, è finito, è tutto passato La gallina dorme Guardate, dorme, c'è riuscito Dorme È vero, l'ha addormentata Ma anche lei dormiva